Marte è ancora la nostra prospettiva più promettente per trovare tracce di vita biologica o civiltà estinte in qualunque momento. Abbiamo da tempo rinunciato alla ricerca di esseri umani, piante o animali su Marte, ma la NASA ha trovato prove di possibili microforme di vita nelle profondità del pianeta. Secondo le ultime scoperte, il nostro vicino planetario custodisce giganteschi depositi di acqua nelle sue profondità. In questo video esploriamo l'eccitante domanda se la vita possa essere ancora trovata su Marte e come potrebbe essere. Ma prima di dare un'occhiata più da vicino a queste domande, otterrai alcune informazioni importanti su Marte e sulla lunga storia dell'esplorazione del pianeta rosso. Il nostro vicino, il pianeta rosso. Marte è il vicino più prossimo alla Terra, insieme a Venere. La distanza tra Marte e la Terra varia. Entrambi i corpi celesti si muovono in orbite ellittiche attorno al Sole. Se Marte si avvicina particolarmente alla Terra, la distanza è di circa 50 milioni di chilometri. Quindi i terrestri possono vedere molto bene Marte ad occhio nudo. Appare nel cielo notturno come un distinto punto rosso tremolante. Il suo colore e il suo bagliore hanno fatto guadagnare a Marte il soprannome di pianeta rosso all'inizio. Dal XVII e XVIII secolo, le persone hanno avuto telescopi così buoni da essere in grado di osservare i dettagli sulla superficie di Marte. L'idea che ci potesse essere, o meglio, che ci dovesse essere, la vita su Marte nacque in quel momento. In primo luogo, gli astronomi hanno riconosciuto le macchie marziane. Gli scienziati a quel tempo interpretavano questi cambiamenti di colore come riferimenti per stagioni e periodi di vegetazione. E gli astronomi non erano poi così sbagliati nel pensarlo. Il pianeta rosso, infatti, cambia volto a causa di eventi stagionali o viene avvolto da gigantesche tempeste di polvere. Nel 1877, l'astronomo italiano Giovanni Schiapparelli individuò i canali su Marte. All'inizio i ricercatori erano in delirio. Del resto, la presenza di questi canali marziani suggeriva corsi fluviali o canali creati da forme di vita. L'idea della vita su Marte è stata così ulteriormente confermata e ha continuato a permanere nella mente delle persone. Dal XX secolo, la NASA e altre agenzie spaziali hanno inviato oltre 30 sonde su Marte. Negli ultimi anni le missioni esplorative si sono intensificate. Marte non deve essere solo esplorato, ma nella migliore delle ipotesi anche colonizzato dagli umani a un certo punto. Per stimare ora il successo di una colonizzazione marziana, gli scienziati hanno sicuramente bisogno di sapere se ci sono acqua e forme di vita organiche sul posto. Prove per la vita su Marte Ci sono state a lungo notizie curiose sulla presunta scoperta della vita su Marte. Negli anni 70 la missione Viking 1 ha fornito le prime immagini reali di Marte. Tra queste c'era una formazione rocciosa che divenne famosa in tutto il mondo come la Faccia di Marte. Altre immagini mostravano blocchi di pietra a forma di piramidi o corsi di mura che ricordavano le planimetrie degli antichi insedimenti Inca. Il Mars Global Surveyor ha avuto una missione extra negli anni 90 per studiare queste formazioni in modo più dettagliato. Con una fotocamera molto migliore a bordo, la sonda è stata in grado di fornire immagini ad alta risoluzione e ha dovuto deludere amaramente tutti i sostenitori delle teorie aliene. Le formazioni erano illusioni ottiche causate dall'angolo di incidenza della luce. Sicuramente nessuna vita sulla superficie di Marte. Tutte le sonde passate sono state in grado di chiarire una cosa per certo. Non c'è assolutamente nessuna forma di vita umanoide, animale o vegetale sulla superficie di Marte. Ma finora non sappiamo quasi nulla degli strati più profondi di Marte. Potrebbero esserci grotte o acque sotterranee con vita qui? La superficie del pianeta rosso sembra troppo secca, a livello regionale e stagionale e anche congelato. La radiazione sulla superficie è probabilmente troppo alta per l'emergere della vita naturale. Tuttavia è concepibile che ci siano microbi su Marte in grado di far fronte bene alle radiazioni o che si siano ritirati nelle profondità del pianeta. Dopotutto ci sono tracce di antichi corsi d'acqua su Marte e dove c'è acqua dovrebbe esserci vita. Ci sono grandi depositi d'acqua su Marte. Nel 2005 la sonda Mars Express ha trovato prove di giganteschi serbatoi d'acqua sotto il polo sud di Marte attraverso misurazioni radar. Sotto uno strato superficiale di ghiaccio di anidride carbonica si poteva trovare acqua normale. Molto probabilmente questa sarebbe acqua simile alla nostra acqua salata. I calcoli hanno determinato un possibile volume d'acqua fino a 1,5 milioni di metri cubici. Sarebbe sufficiente per coprire completamente la superficie di Marte con uno strato d'acqua di circa 10 metri di spessore. Nel 2012 il rover Curiosity della NASA è atterrato in una valle che sembrava un ex corso di un fiume. E infatti le misurazioni e le immagini di Curiosity hanno confermato il sospetto di paesaggi e formazioni alluvionali. Chiaramente i ricercatori devono concludere che un tempo Marte era coperto d'acqua. Un tempo Marte probabilmente aveva un'atmosfera simile a quella terrestre. Quando questa è scomparsa per qualche motivo, la pressione dell'aria su Marte è cambiata drasticamente. Oggi la pressione dell'aria è così bassa che l'acqua non può rimanere a lungo in superficie. Al momento i ricercatori della NASA ritengono che la vita possa nascondersi nel serbatoio d'acqua sotto le calotte polari o nelle caverne e negli strati più profondi di Marte. Anche sulla Terra la vita non è affatto limitata alla superficie. Grotte, bacini idrici, semplici muschi e licheni si trovano all'interno della Terra. Batterie e microbi possono ancora essere trovati fino a 8 km di profondità. Allora perché non dovrebbe essere lo stesso su Marte? Grotte marziane e buche marziane. Nel corso della missione Curiosity sono stati perforati alcuni luoghi su Marte. Tuttavia le perforazioni hanno raggiunto solo pochi centimetri di profondità. Per raggiungere i presunti depositi d'acqua e gli strati umidi di Marte sarà necessario perforare più in profondità. I progetti per farlo sono già in fase di progettazione. In Germania gli ingegneri stanno già testando un trapano che verrà inviato sul pianeta rosso con una prossima missione su Marte. La prossima missione, che esaminerà le rocce e i terreni marziani in modo più dettagliato, è già in corso. Il 18 febbraio 2021 il rover Perseverance Mars 2020 della NASA è atterrato con successo nel cratere Geziro, nell'emisfero settentrionale di Marte. Questo rover si sta preparando a raccogliere e restituire per la prima volta campioni di trivella e roccia sulla Terra. Se questa missione avrà successo sarebbe una sensazione assoluta. Mai prima d'ora gli umani avevano tenuto in mano rocce marziane. Le uniche eccezioni sono i meteoriti più piccoli, presumibilmente provenienti da Marte, che sono stati trovati sulla Terra, ma ogni traccia e indizio su queste rocce è di scarso significato, a causa del loro lungo e non protetto viaggio nello spazio. Uno degli obiettivi principali della nuova missione è esplorare ulteriormente i giganteschi e misteriosi buchi sulla superficie di Marte. Nel 2011 il Mars Reconnaissance Orbiter ha fornito un'affascinante immagine di un gigantesco buco sul fondo di un ex cratere vulcanico. Gli astrobiologi considerano questa caratteristica geologica un luogo eccellente in cui cercare la vita. I buchi marziani conosciuti finora sono molto più grandi della maggior parte delle cavità sotterranee comparabili sulla Terra. Presumibilmente alcuni di essi sono di origine vulcanica e sono i cosiddetti tubi di lava. Questi buchi profondi non sono interessanti solo perché sul fondo si possono trovare tracce di vita. Sono gli unici luoghi conosciuti su Marte che sono generalmente protetti dalle radiazioni cosmiche e dai meteoriti. La NASA sta anche valutando se le aperture naturali potrebbero essere luoghi perfetti per future stazioni marziane con equipaggio. Cosa è stato deciso alla conferenza Mars Extant Life? Nel 2019 i team di ricerca internazionali si sono incontrati per la Mars Extant Life Conference nello stato americano del New Messico. Insieme hanno deliberato sul modo migliore di procedere con l'esplorazione di Marte, nell'interesse di tutte le nazioni e le persone sulla Terra. All'incontro uno scienziato e portavoce NASA ha ribadito l'importanza di continuare la ricerca di microorganismi. L'astrofisico Vlad Astamenkovic ha nuovamente sottolineato che la superficie di Marte è davvero il posto peggiore in cui continuare a cercare tracce di vita. Ma come dovrebbe ora procedere in concreto la ricerca della vita su Marte? I geologi hanno valutato i dati delle sonde precedenti e identificato circa mille grotte e diverse altre aperture naturali sulla superficie di Marte. Potrebbero essere tutti bersagli per future sonde spaziali e robot. Per portare avanti i progetti, gli scienziati dovrebbero ora sviluppare apparecchiature in grado di esaminare accuratamente le acque sotterranee e le sostanze chimiche. Inoltre, le sonde dovrebbero essere in grado di percorrere distanze maggiori. Solo allora potremmo esaminare quanti più potenziali siti su Marte possibile. A dire il vero, astronomi e geologi aspetteranno prima i progressi della missione Mars 2020 Perseverance. Il rover è impostato per rilevare le biofirme sulle rocce e negli strati superiori del sottosuolo di Marte. Un elicottero sorvolerà Marte a distanza ravvicinata dalla superficie e continuerà a cercare tracce di vita precedente. Se la missione va come previsto, dovrebbe fornire le basi per un primo volo con equipaggio su Marte. La NASA sta prospettando ciò a partire dal 2030. Più tardi, i ricercatori sul campo saranno in grado di indagare ulteriormente nelle profondità di Marte e nelle sue grotte, alla ricerca di tracce di vita. Come puoi vedere, le cose su Marte continuano ad essere eccitanti. Vi terremo ovviamente aggiornati. Puoi ascoltare tutto sui progressi dell'attuale missione Mars 2020 in un prossimo video. Ci auguriamo che questo viaggio sul pianeta rosso ti sia piaciuto. Come sempre, ci piacerebbe sentire i tuoi pensieri sull'argomento nei commenti. Arrivederci alla prossima!